e alla porta con una freccia hanno ammazzato tutte le vede di cosa no da poi c'hanno portato la russa ma di cazzo io non ho fatto nulla ma quando poi con lui colto in casa mi dice la cosa io poi faccio l'appretario la volta che avevo paese ha ammazzato dove c'era stato uno a condizione che si è grave di mobilità e gli altri dovrebbero essere fatto e tutto questo è stato un ragazzo di lago c'è un ragazzo di lago che ha fatto la testa poi io ho visto e mi ha fatto tutti un passaggio e ci hanno fatto e poi sai perché? mai un palazzo a me non è il 2 agosto del 2003 e io non ho fatto male io e se c'è stata la proposta con il 6-10 che ha fatto tutto questo lavoro sapessi? ecco io ho visto che non era mai ecco perché non ho imparato quindi è l'unica casa che è rimasta tale quale è l'unica casa che è rimasta ma anche qui c'è il mio video però vero vero che è casa hai capito che eravamo qua? hai visto le macchine vinti di giro perché c'era tutto giusto a fare la camminata ora se sei a tutti il castello ma la gente là non deve visto passare tu sei a tutti ma invece ho un'unica casa mi provo sai ma tu sei calma ogni sabato non è nulla ma poi se sei a tutti se sei a tutti il castello se sei a tutti il castello tu vai a fare